...imprenditore di origine egiziana che continua a far vivere telefoni e tablet. E' una da qui. Ci abbiamo iniziato la nostra attività nel 2000 con 10 portatili e oggi noi giriamo oltre 80.000 prodotti all'anno con un fatturato previsto quest'anno di circa 20 milioni di euro. Lo chiamano il resuscitatore di computer Gapius Garas, 5 appena imprenditore di origine egiziana e il palino di allungare la vita a telefoni e tablet l'ha sempre avuto e in Italia, Bucinasco nel Milanese, ne ha fatto una professione di successo. Io vengo con una cultura del riutilizzo dei prodotti. Preghiamo che in Italia ci sono circa mezzo milione di prodotti computer usati e venduti ogni anno con i volumi da fare diciamo che sono oltre 100 milioni di euro all'anno. Quando faccio un colloquio con un aspirante dipendente guardo prima alla motivazione, alla voglia di lavorare, a prescindere dalla nazionalità o dell'età o del sesso. I suoi 26 dipendenti arrivano da ogni parte e Ecuador, Marocco, Ucraina, Egitto non si sono mai fermati neanche durante l'emergenza Covid. Quando hanno iniziato il lockdown in Italia la richiesta è aumentata di oltre il 70% di computer portatili e abbiamo anche fatto una donazione alla protezione civile perché ci ritiriamo fortunati in questo momento.